I finanziari del Comando Provinciale di Salerno, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, sul richiesto della Procura, hanno sottoposto a sequestro preventivo un'area di circa 10.000 m2, nonché un impianto di produzione e stoccaggio di calcio e struzzo di circa 11.000 m2, per un valore complessivo pari ad oltre 750.000 euro, entrambi situati nel comune di Castelnuovo, Cilento. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Vallo della Lucania hanno permesso di ricostruire in capo a due imprenditori di Ascea operanti nel settore della protezione di calcio e struzzo un quadro indiziario in materia di interventi edili in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale realizzati senza i necessari permessi. Sono emersi anche diversi episodi di scarico abusivo, di rifiuti, su suoli privati e presso siti non autorizzati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.